Un personaggio incredibile, io lo chiamo professore, ha due lauree, ma soprattutto ha una laurea nel cuore che è l'amore per la musica. Parlo di Antonio Cessari. Ti ringrazio. Ti ringrazio caro Umberto, io sono sempre felice di stare qui con voi, oramai è un'abitudine, vengo da parecchi anni, quindi diciamo questo è uno degli anni in cui vengo qui. Ma ogni anno ci porti delle sorprese? Questa volta vi ho portato un ragazzo che pure di Napoli come me e pure come me vive a Pescara, quindi ci siamo incontrati lì ed è un cantautore, ma canta anche delle mie canzoni. Grandioso. La prima canzone che farà adesso è Tiempenavoto, che è una canzone... Posso chiamarlo sul palco? Sì, come no. Prego, eccolo qui, un applauso, è un debutto con noi, Fabio Luongo, prego. Eccolo qua, caro Fabio, il quale canterà questa prima canzone che Tiempenavoto ed è una canzone da me composta che lui ha cantato in modo... Perché tu vedrai che tu che sei un grande intenditore, vedrai che ha un'ottima voce questo ragazzo. Alla grande. Allora, noi, io e te professore, lasciamo l'allievo, posso chiamarlo allievo Fabio Luongo, della sua prima interpretazione sul palco del Canta Festival. Ancora per poco un allievo sarà. Ah, sì, per poco un allievo, diventa la professore anche lui. Un applauso per Fabio Luongo. Grazie, buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta che si parlava, piano piano, e altra voce su una canzone si cantava. Lunga tutta l'ora si parlava, ma capa sotto il cellulare in mano, piaccia durezza e nu poche violenza, e svaffa contro l'educazione e pacienza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.